Oggi è un giorno importante, oggi abbiamo appena sottoscritto il protocollo per lo sviluppo sostenibile di Regione Lombardia. Il cluster della Chimaca Verde è il primo cluster Lombardo a sottoscrivere questo importante protocollo, che si basa su due parole chiave, sostenibilità e fare sistema. Sostenibilità intesa come sostenibilità ambientale, sociale ed economica e fare sistema in quanto tutti gli attori che si occupano di sviluppo sostenibile, di biotecnologie, di bioeconomia e di economia circolare a livello Lombardo sono coinvolti e saranno coinvolti per poter migliorare quelli che sono gli impatti della strategia di sviluppo sostenibile Lombarda e migliorare la vita dei cittadini Lombardi.